Arriva Maria Elena Boschi a tirare la volata di Italia Viva a Giuliano e al candidato sindaco Antonio Poziello. Ieri sera allo chalet del centro l'iniziativa del partito con la capogruppo alla Camera che nel suo intervento ha tenuto a ricordare che l'unico governo a stanziare fondi per la terra dei fuochi è stato il governo Renzi, poi l'endorsement al candidato sindaco. Sperate di essere il primo partito della coalizione? Giuliano sicuramente è diventata centrale in questa campagna elettorale, l'abbiamo visto anche nelle presenze di oggi, di tutti i partiti, quindi sicuramente ha un valore anche simbolico. È una città molto importante, noi lo sappiamo anche per l'estensione, per il territorio, anche per le difficoltà che ha dovuto affrontare, per le sfide che ha davanti e per le opportunità che ha Giuliano. E noi vogliamo avere il risultato sicuramente importante perché abbiamo un ottimo candidato che ha già dimostrato quello che sa fare, la competenza di conoscere questa comunità, di conoscere questo territorio e io credo che ha maggior ragione, sapendo che dopo il Covid navighiamo appunto in un periodo difficile, poter contare su una persona che ha già dimostrato diciamo le proprie capacità, penso sia una garanzia in più per i cittadini. L'incontro è stato però l'occasione per Poziello per replicare duramente a Costa e Salvini. Io ho avuto vergogna di essere italiano, insomma è stata l'esibizione di Costa qualcosa di veramente imbarazzante. E' dal 5 settembre dello scorso anno che aspettiamo da Costa qualche risposta. La passeggiata che ha fatto oggi venendoci a dire che la colpa era della regione, era dei sindaci è qualcosa che si poteva risparmiare. Costa è uno che ha fatto la propria fortuna promettendo che avrebbe spento la terra dei fuochi e uno che è venuto qua a contarci balle, ce le conta oramai da tre anni. Ci ha detto che non aveva fatto niente perché poi l'anno scorso avevano fatto cadere il governo. E però voleva venire prima, solo che è venuto in campagna elettorale. Io credo che Costa debba fare un po' la persona seria e debba dirci in che modo si risolve il problema della terra dei fuochi. Costa è venuto a dirci alzate i rifiuti, se lo poteva risparmiare. Oggi ci ha raccontato balle e gli stessi 5 Stelle l'hanno fischiato. E questo è qualcosa che in qualche modo mi fa stare meglio. Perché vuol dire che c'è nella parte dei 5 Stelle una parte sana che rifiuta l'accordo col PD che è un accordo sinceramente indigeribile perché sono opposti che non possono stare insieme. Io credo che Salvini col termovalorizzatore se ne debba andare. E ancora una volta il fronte del centro-destra è preoccupante. È preoccupante perché torna sempre su soluzioni andate, vecchie, bistrata. Sono 20 anni che ci vogliono proporre questo termovalorizzatore, sono 20 anni che vogliono farsi affari sui rifiuti e basta. Cambiassero solfa, andassero a fare il termovalorizzatore da un'altra parte. Giuliano ha già dato. Se poi lo vogliono fare a Napoli Est magari uno ci può pure ripensare.